Spettacolo di danza classica alla Villa Comunale di Chieti, che festeggia tra l'altro i 50 anni della scuola di danza, ora chiamata Cristina Nudi, ma nel 73 quando nacque era scuola di danza classica a Chieti. La seconda è in Abruzzo peraltro? Sì, perché all'epoca in Abruzzo non c'era la presenza della danza, per cui la scuola che è la prima mia mamma è nel 1972, non vorrei sbagliare credo o la seconda o la terza perché c'era Teramo e l'Aquila e poi ci siamo stati noi qui a Chieti e quindi resistiamo ancora dal 1972, siamo nel 2022, un bel pezzo di vita decisamente passato a fare danza, l'ho fatta tutta la vita. Collaborazioni anche con Tornatore? Sì, collaborazioni abbastanza importanti, devo dire, molto belle e impegnative come assistente alla coreografia insieme con Leon Tisnell. La leggenda del pianista sull'oceano è un film che ricorderò veramente con grande amore perché è stato un lavoro molto importante, molto formativo sulle musiche di Ennio Moricone. Che è stato il mio idolo, noi l'abbiamo danzato tanto, è stata un'emozione fortissima conoscerlo e avere a che fare, anche se in minima parte, con lui. Insomma è stata veramente una cosa bellissima che non è da tutti poter vivere. Io ringrazio sempre chi mi ha dato la possibilità. E per festeggiare i 50 anni portate in scena uno spettacolo che riguarderà quali coreografie? Allora portiamo sulla scena una rivisitazione della Carmen di Bizet, in una versione proprio per la danza, ovviamente rivisitata per l'occasione, riadattata alle allieve di una scuola. Poi portiamo una parte dedicata alla danza moderna che vuole praticamente esorcizzare tra virgolette questo brutto periodo che noi abbiamo vissuto, che ci ha visti anche un po' costretti all'inattività. non abbiamo potuto danzare, quindi un inno alla libertà, alla gioia, alla speranza e soprattutto per i giovani. E poi una terza parte dedicata ai Pink Floyd, un gruppo a me molto caro, con delle coreografie ispirate anche ai primordi fatti da Roland Petit, quindi un omaggio ai Pink Floyd, rivisitato da me. Grazie.